Buongiorno a tutti, è tantissimo che non faccio un video qua sul canale di YouTube e di questo vi chiedo scusa che in verità sono partiti tanti lavori e grazie a Dio che questa situazione di stasi sta finendo. Però non vogliamo mancare ai nostri impegni, a lasciarvi aggiornati su quello che stiamo facendo. Cerco di farlo con quei social un po' più veloci come Instagram e Facebook. Se volete seguirmi metterò i link in descrizione a questo video. Ma la cosa che ci tenevo è aggiornarvi sullo stato d'avanzamento del film di Libera Nossa. Adesso siamo più liberi di girare, quindi vorremmo concludere tutta la parte di fiction e a breve vi aggiorneremo su questo. Se foste interessati magari a dare un'occhiata dietro le quinte vedrò di mettervi in condizione di farlo facendo qualche video direttamente dal set. Vi chiediamo preghiera per questa impresa finché possiamo completare quest'opera senza avere troppi ostacoli e troppe difficoltà. E vi promettiamo anche di ricominciare con le nostre dirette e con questi video così di approfondimento. Non era nostra intenzione interrompere, ma era veramente impossibile riuscire a mantenere fede a questo appuntamento settimanale. Però ci auguriamo anche che dopo questa pausa anche da parte vostra c'è stato anche il tempo per vedere le live mancate perché sempre più persone mi dicono Ah non sono riuscito a vedere tutte le vostre live, adesso lo farò. Beh adesso avete il tempo per rimettervi al passo. Sono tutte disponibili all'interno del mio canale e nella playlist live. Quindi vi saluto, vi porto il mio abbraccio anche se virtuale e la promessa di mantenervi aggiornati su queste nostre lavorazioni. Un saluto a tutti.